Ehi, guarda, è ancora un eroe. Già, quei barboni non hanno neanche fuso la sua statua. Questo sì che è rispetto. Cole, Trey! Merda, sei proprio tu! Wow! Cole, che ci fai qui? Amico, non sei cambiato di una virgola. Ehi, finalmente sei tornato a casa. Non possono tenermi lontano per sempre, baby. Volevo solo vedere se è tutto come l'ho lasciato. Ehi, ti fai una birra con noi? È roba buona. Vi ringrazio, ma sono ancora in servizio. Ci servono provviste. Ne avete per caso? Meglio chiedere al boss. Ti possiamo portare da lei. Ho sentito che non è proprio una mia fan. Ma ti ascolterà. Tu sei Coltrane. Ehi, Coltrane non si ferma mai! Ciuff, ciuff! Flattanti! Sono dentro! Gli Stalks hanno entrato nello stadio! Mettetevi a riparo! Mettetevi a riparo! Gli Stalks Già, hai ragione sugli odori che non se ne vanno mai via. Già, hai ragione sugli odori che non si vanno mai via. Puoi lasciarla a qualcun'altro quella palla? Prenditi una palla. Ascolta, amico, ora tocca a noi. Cougars, Cougars, alla vittoria! Cougars, 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 Cougars! Ascolta, amico! Aiuto! Uno stalk gigante sul campo! Prendi la bomba! Avete fatto un casino sul mio territorio, sa? Pessima idea! Ehi, sto per farmi più! Vengiti questa! Wow! Mi vuole un esercito per fermarmi! Ah! Vai fuori! Cole, tutto bene? Ah! Train è sempre in forma, baby! Quel movimento l'ho usato per la prima volta in finale contro gli Eagles. Ovviamente, quegli stronzi non esplodevano. Sì, sei ancora bravo. Ora andiamo a parlare con la regina dei barboni. Sovereign a tutte le unità K.R. in missione. Gli Splendenti ci hanno attaccato. La nave è stata abborbata e abbiamo bisogno di supporto. Ripeto, siamo sotto attacco e richiediamo assistenza immediata. Oh, cavolo. Questo cambia i piani per la cena? Cole, a K.R. 7-0. Dobbiamo raggiungere la nave! Qui, K.R. 7-0. Negativo, Cole. Gli Splendenti stanno facendo un casino sulla Sovereign. Attendete. Ricevuto. Ok. Vediamo se il boss riesce a farci tornare sulla nave in qualche altro modo. È stato bello finché è durato. Ah, merda! No, è colpa vostra! Quelle bestiacce ci avevano lasciato in pace finché non vi siete presenti! Signore, la nostra nave è nei guai. Dobbiamo rientrare il più presto. Avete un mezzo di trasporto. Come no! Ecco le chiavi del mio yacht! Sentite, COG! Siete soli! Andatevene finché siete in tempo! Presto, muoviamoci! Andiamo di sotto e apriamo il cancello posteriore! Dobbiamo evacuare i civili! Merda! Dobbiamo arrivare al ponte! La Sovereign ci passerà sotto! D'accordo, d'accordo! Potremmo prendere il controllo di quelle torrette. O calarci sulla nave quando sarà sotto di noi. La teleferica che porta al ponte funziona! Sì, ma vi do un consiglio. Dimenticatevi del ponte. Ci sono degli arenati da cui è meglio tenersi all'alarmamento. Beh, ci toccherà rischiare. Dobbiamo tornare sulla nave. Fate come volete. Per me non fa differenza. Cole, sembra che sappiano come uscire. Io pure, da questa parte.